Rael Gunner, alla fine di questa partita, possiamo dire che dopo quattro partite di aver visto un Bern diverso di quello della scorsa stagione, anche se è un po' presto? Sì, sicuro, ho cambiato tanti giocatori e adesso bisogna un po' di tempo di prendere il nostro ritmo ma ho giocato bene stasera, gloriamo e tieni sempre la partita vicino e tutto è possibile di vincere così, è difficile stasera di perdere 5 contro 3 un gol ma questo bisogna rigenerare domani e guardare il nostro errore e fare meglio Ticino avete perso due volte i tiri di rigore, però mi sembra che 5 contro 5 non siete da meno e anche di Lugano? No, no, penso quasi di meglio, diciamo, più occasioni davanti alla porta di loro, penso ma il power play del nostro non bisogna essere meglio, adesso non ho segnato le quattro partite e questo è il più importante per noi Un rientro di un giocatore di Rufina può dare qualcosa in più a una squadra importante e secondo te Lugano e Berna potranno fare più di quella della stessa stagione? Spero, sì, per noi è sicuro, Rufi è un grande giocatore per noi prende un lavoro fisico anche per le mani e segna tanto, fa belli passaggi lui è un giocatore che va in diritto direttamente alla porta e lui aiuta tutti i nostri giocatori perché apre spazio per noi ma anche la Novis aiutano tutti anche penso che la squadra arriva meglio, spero, di l'anno scorso però è un lungo viaggio Ultima cosa, è sembrata già la partita di play-off questa squadra già in forma, quasi fuori di play-off Sì, per noi è importante giocatore come play-off ogni partita perché quando arriva la play-off siamo pronti noi lo sai che Lugano è forte, non ha perso una partita quest'anno e siamo stati pronti per loro e vediamo ancora cinque volte come va Ci vediamo presto e bocca al lupo per tutti due Grazie